fidati di me, non cambiare mai, ci divertiremo insieme ora più che mai, fidati di me ehi sorpresa, meno male pensavo di essere sola per questa nuova stagione di fidati di me invece vedo tante riconferme a partire dal maestro Lindo Terrenzio eccomi Fede, ciao! Quest'anno cara Federica farai fatica a trovarmi in studio perché avrò una postazione anonima, riservatissima non mi troverai? Ma davvero? Giuro! Ma siamo sicuri che ti sentiremo molto bene con la tua musica stupenda che ci accompagnerà in tutte le puntate e poi i miei angeli custodi che sono diventati anche un po' i vostri angeli custodi Lisa e Luca! Eccoci Fede, non potevamo abbandonarti assolutamente Anche in questa prossima stagione tante novità per il nostro pubblico a casa Ecco, mi raccomando! Assolutamente sì! Mi raccomando Luca, questi tagli, poi tante novità anche per te ne parleremo e poi torna lei, l'ambracciatrice del pubblico, la nostra Ambra Porreca Ambra, allora! Eh sì, cara Fede, e quest'anno avrà un mio TG personale! Ma wow! Posso dire solo questo! Grazie, grazie ragazzi e poi anche tante tante novità a partire da questo bellissimo ragazzo accanto a me, il maestro Niccolò Cantagallo che sarà il mio co-conduttore Grazie, grazie! Anche io con una novità quest'anno, un'interessantissima rubrica sulla musica Che bello! Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora! E allora, niente, non vi rimane far altro che essere puntuali qui con noi Sì, il 25 settembre per la primissima puntata di Fidati di me, giusto ragazzi? Assolutamente sì! Questo è il cast! No, 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 cioè... Leave it the egg! Come? Anzi no, si tolga da chi? Scusi, lei è... Ah, giusto! Salve, buonasera! Scusate, mi sono dimenticata di presentarlo, ma insomma era così, rilevante la questione Ma ci sarà anche lui, Fausto Verdecchia! L'uomo che fa ridere le donne con lo sguardo e con il sorriso Ecco, ma sarai solo o porterai degli amici? Porterò degli amici, ma seguiteci! Mi raccomando, questo è il nuovo cast di Fidati di me Ci vediamo puntualissimi alle ore 21 su Rete 8, mercoledì 25 settembre Ciao! Dì me!